sono un cane ho un osso in bocca ciao oggi sono un astronauta oggi sono un astronauta e loco va in giro dicendo che è un cane però non lo capisco perchè ora a me sembra un unicorno tra l'altro ci sta anche molto bene con la tua skin perchè sembra che esce esattamente dal cappellino è bellissimo si è molto bello comunque oggi siamo in un nuovissimo video su minecraft e quest'oggi loco l'occhio c'è la tua cosa che ti piace più al mondo che cosa è che ti piace più al mondo i dropper esattamente guarda quanti bei dropper abbiamo ben 12 11 livelli forse c'è anche qualcuno bonus e ci andiamo a divertire se mi butto nel vuoto respawni perchè hai capito lì a conta la morte proprio no è chiaro è chiaro 11 livelli chi lo completa prima ovviamente fa un punto oppure vogliamo fare con le morti cosa mi dici dimmi tu ti ascolta quello io farei con le morti ti sei messo il spectator e non sono morto purtroppo livello 1 e facciamo con le morti va bene l'idea è tutto il signor loco l'occhio allora oh mio dio mi sembra un livello abbastanza brutto hai bugato tutto facendo questa cosa complimenti davvero hai una dote incredibile nel bugging dei levels l'hai già fatto? easy e a me hai fatto far la morte a caso non lo so capito l'hai fatta neanche tu la morte a caso cioè è facile dire così per poi dire vara BBB tra l'altro mi sa che c'è anche un bottone nascosto da premere in ogni livello aiuto cosa ho appena fatto e c'è una monetina la monetina ho anche la monetina ok ora possiamo andare avanti la monetina mi toglie una morte dai dai che cosa che cosa non pensavo morissi comunque si conta questo non vale uccitare brutto pagliaccio mi sei davvero basta mi stai stancando stavo a primo livello appunto mi stai già stancando pensa un pochettino hai fatto il record ok abbiamo la monetina ora possiamo finire il livello eh che ne dici finish bene livello 1 completato e non è molto corretto il punteggio che c'è a destra ma la smetti di picchiarmi guarda che sei morto anche da sola hai messo l'f3 ne ho visto fallito fallito livello 2 vieni qua muoviti ci sono le miners allora ti ricordo che c'è la monetina dai facciamo che la monetina toglie una morte dai dai che è carina così no chi trova la monetina perde una morte dai dai ci sta mi piace come idea lo togliamo soltanto alla fine però mannaggia eh mannaggia 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 quindi tu devi arrivare devi andare a cercare assolutamente una monetina se vuoi perdere una morte monetina ok where are you non vale cliccare il coin in hide in hide in hide è lì è lì per forza lì non c'è lì doppia voletina per Nico dove era dove era dentro questa cesta salti e apri eh sì che si apri mi dispiace loco eh ti sei messo in f3 io sono morto perché tu no ma basta è par condicio eh ma tua mamma questo è questo non è par condicio andiamo livello 3 le torri perché ci sono delle frecce follow the arrow ok follow the arrow ho sbagliato eh ho sbagliato anche io molto bene allo ti sai che è sbagliato arrow vai a vedere se quello è giusto loco ma qual è quello giusto sono tutti sbagliati bianco ma hai sbagliato bianco bianco ma dai ma questo è un colore diverso è tutto diverso ti giuro io non ne posso più è quello quei grigi dici vero può darsi questo qua ma allora quello era palesemente un bianco comunque non so per quale motivo non abbia funzionato non è bianco non devi andare nel bianco l'ultimo e quale devi andare non lo so eh grazie fin qui ce l'ho arrivato anche io però e quale hai scelto monetina no hai preso la monetina monetina ahhh erano tutti e tre bianchi ti ho trollato ma io l'ho preso ma che cavolo ma io io te lo giuro te lo giuro che c'è qualcosa che qua mi sta trollando e secondo me stai facendo tu lo slash kill stai facendo tu lo slash kill potente ma vedi che muoio no ero sul bianco loco loco ero sul bianco adesso game mode creative guarda guarda sai voi ti aiuto ok guarda bianco ma vedi che schiatto vabbè questo livello si resetta alle morti mi sembra più che giusto perché insomma non mi sembra molto giusto ma scusa restano e sono affaracci tuoi ok ma secondo me non è assolutamente giusta come cosa ma scusa io vabbè sono caduto pure sono caduto pure neanche sono morto allora mi torno qua ma non ho capito cioè nel senso oggi davvero non è giornata perché te lo giuro guarda sono proprio furente arrabbiato in una maniera che proprio tu dici cane puffoente che passa tra la gente mannaggia a te e alla gente che passa attraverso il cane puzzolente tu nel king del park loco tu non vuoi devi parlare io mi prende anche in giro prima ce l'avrei fatta il secondo tentativo se sono l'uomo avesse fatto pure le 40.000 474.000 volte perché sta prendendo un danno grande coin lo sto giocando anch'io scusa ma c'è trovare in questo momento prova ci giuro ti per te la fine dai ma non funziona neanche tipati dai tipati e vabbè basta 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 vabbè io il coin non lo voglio in questo livello sono già abbastanza arrabbiato te lo giuro guarda oggi potrei esplodere in una tempesta di fulmini vabbè saltiamo il coin dai tanto e tanto che te frega tu prima l'hai fatto subito non come me che sarà bugato a livello no 27 morti in più ti ricordo non vuoi un altro po' no ragazzi ho preso il coin livello delle linee a me piacciono le linee sono tutto quando guarda guarda che lo faccio al primo livello è al primo tentativo bravo con cattuazioni sei fottissimo non mi sembra che tu ce l'abbia fatta con molta calma e di edizione ci dirigiamo verso il nostro obiettivo con molta calma e di edizione ci dirigiamo verso il nostro obiettivo che sembra proprio con molta calma e di edizione ci regaliamo un bel acqua questa non è acqua con molta calma e di edizione ci regaliamo un bel bagno con molta calma e di edizione lo dico io con molta calma e di edizione ci dedichiamo un bellissimo bagno nell'acqua visto che ha funzionato tiene il tuo coin lo regalo fallito accetti anche la carità accetti anche la carità sì esattamente livello 6 andiamo a vedere cosa si nasconde nel livello 6 allora oggi ho ho problemi ho dei allora posso spiegare basta sono arrabbiato non ne posso più hai preso palo per caso no non ho preso un palo ok ok bene bene dai 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 hai fatto unico? no non ce l'ho fatta allora ce la farò ora giuro è una cosa più facile di tutte e ora ce la faccio un attimino che mi devo impegnare un momento giusto uno e non due ma si che l'hai fatto brutto pagliaccio dove cavolo sta il coin un giorno ti sveglierai con talmente tanta cacca nelle mutande che per pulire non basterà un litro pulitrice non c'è il coin e dico non essere triste si contento della vita sono puremente sono ancora arrabbiato per il primo livello secondo livello io te lo dico allora bello questo questo lo faccio al primo colpo perché ormai guarda ormai ho in testa che che per me la vittoria è l'ho fatto anch'io non l'hai fatto te come no non l'hai fatto l'hai mancato l'ho fatto come si esce da sto posto bene c'è un coin doveva il coin dovevo te coin nico questo non è un coin questo è un non è un coin è un martin ti piace il coin ma che io sono gentile io voglio bene i nemici si al contrario degli altri miei amici come te c'è tipo tu e bene i nemici ma loro non vogliono benati in sostanza esatto ok mi sembra onesta come cosa te lo faccio la prima comunque non ce la fai tanto fatto the king of the dropper l'ho fatto anche io loco hai beccato l'unico che non puoi uscire guarda che città nico immagino che te l'abbia trovato nico eccolo qua prego l'ho trovato grazie mille perché si ho messo un sacco a trovarlo e finish possiamo andare avanti l'ho trovato da solo impegnando tutti i miei neuroni nella sinapsi che mi ha permesso di non c'è il nuovo internet arrecarmi verso il livello chiamato dots ovvero punti e questo non lo farò mai alla prima ma tipo mai infatti eccomi qua buongiorno cosa è questa cosa punti punti ma porca miseria oh mio dio cosa ho fatto cos'hai preso oh mio dio nico no no tu non puoi capire cosa è sta cosa è folle cos'è dillo è pieno di cobweb in giro circondate da cose strane da item frame devi prendere le cose che vedi super nere cosa cosa vuol dire le cose super nere è tutto vero se vedi un blocco più nero del nero prendi quello il come nelli se vuoi grazie prego molto gentile io ho questa mappa mi vergogna non so se uscirà mai questo video nel caso mi dispiace cioè davvero non lo so non lo so mi dispiace non volevo non volevo è bello no non è bello proprio per niente ma perché non ci riesco ma perché non ci riesco ma perché ma perché ma perché ma perché ma perché ma perché c'è un buco c'è un buco è il buco il buco del naso il naso ne ha due di buchi non so se lo sai dipende da naso a naso no guarda ne hanno due entrambi tutti sì 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 a meno che non ti fai tipo il buco al naso ma io come ci entro lì dentro ma io come ci entro ti preciso lì dentro questo sta pure a città guarda che l'ho visto dai dai che son dentro son dentro e l'ho fatto bravo l'ho fatto anche io fammi cercare a me la stellina adesso è qua dentro magari oh preso wuhuuu dai oh guarda che ritendo scherzando ho un sacco di monetine cioè magari posso tipo scendere un sacco eh non un sacco eh ma tipo un botto bravo loco bravissimo a fare parkour dai dai l'ultimo livello poi vado a piangere in un angolino perché look down oh porca miseria il drop inizia subito loco stai molto attento perché se faccio questo primo colpo ho vinto tutto davvero io mi sa che non ho vinto tutto l'hai fatto il primo colpo Nico eh sì ora ti aspetto farmati pure le morti io intanto conto le mie monetine che sono ben otto e mi tolgo otto morti quindi scoreboard player remove Nico morti otto oh hai una a me no ah è una monetina va bene dai 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 ce la puoi fare loco dai 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 raggiungimi ok 40 sì sì giusto giusto ne hai tolto una a me sì la scritta è mezzo ma lì io ci entro dentro loco lochis è town game mod su spectator mod loco lochis è per arrivare prima al coso eeeh vedi che sto continuando a morire forse eeeh fatto fatto non è vero e mo oh sì 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 pensi di aver vinto no no c'è un altro livello qua eh place coin on gz quartz coin l'ho fatto quale è gz quartz ah questo qui oh questo è un livello bonus per caso bello 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 livello 12 ovvero quello finale follow the coin oddio ma che è sta roba aiuto ma è tipo una mega sta attento che si cade ah l'hai visto anche tu vero eh l'hai visto anche tu questo è il livello finale ah questi coin non vaggono ti avviso no questi coin non si possono neanche raccogliere eeeh follow the coin porca puzzola no ma quanto è lungo oh mio dio ok mo qua si pia la scaletta e daie e daie poi si fa così e si fa eeeh ok ci sono ci sono qua c'è anche un checkpoint molto molto bene interessante checkpoint grazie mille hi my name is oak ciao oak piacere ora da qui devo atterrare lì sopra penso tipo a cuscì ok seguiamo le monetine loco stai ancora formando sono morti per caso come no no dove scendere qua forse ti prego non muori ehi dirvi devi andare mi sa e che sono fallito nato eeeh due one eternity later ok ho vinto ciao dai vabbè però con le morti siamo lì lì se il gioco non si fosse bugato io io avrei vinto no no non è vero bello mi piace noi ci vediamo domani perchè mi appaiono dei blocchi rossi sotto la noi ci vediamo domani buon natale a tutti eeeh e io non basta ciao come si attiva attivata ha fatto schifo anche vabbè oggi non so giocare basta alto f4 ciao buon natale a tutti felice anno nuovo basta